Uno su quattro, poco più. Nel 2014 solo il 26,4% dei pugliesi ha dichiarato di aver letto un libro. Un dato sensibilmente peggiore di quello nazionale, che secondo l'Istat si attesta a un già non invidiabile 41,4%. Povertà culturale dei pugliesi, ma anche crisi di un sistema editoriale un tempo florido e oggi in grande difficoltà, come sottolineato in un incontro organizzato dalla SLC-CGL nel palazzo della città metropolitana di Bari. Se negli ultimi dieci anni in questa regione sono stati investiti 80 milioni di euro per alcuni settori della cultura, come la musica in particolare, qualcosa sul teatro, è stato fatto molto per affermare il brand Puglia a livello internazionale e si vede con il risultato che siamo i primi a livello turistico, come presenza turistica. Non è stato fatto nulla, e purtroppo questo dispiace, non è stato fatto assolutamente nulla per incrementare e favorire questa propensione alla lettura che sembra essere lontana dai nostri territori. Purtroppo questo non è stato fatto e chiediamo che la regione su questo intervenga. C'è una legge regionale che è stata emanata nel dicembre del 2013 con un capitolo di spese di appena 200 mila euro per tutta la regione, ma che non ha trovato assolutamente applicazione fino ad oggi e quindi è su questo che proveremo a ragionare. Un appello raccolto dal presidente del Consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo, già segretario regionale della CGL e particolarmente sensibile al tema del lavoro unito alla cultura. A livello regionale, nella passata legislatura abbiamo promosso sia una legge per rilanciare il sistema delle biblioteche nella nostra regione e sia una legge sull'editoria. Adesso verifichiamo, evidentemente l'applicazione non è delle migliori, faremo tutto quello che sarà possibile per aiutare sia l'editoria sia le biblioteche. Adesso sentiamo le proposte e vediamo come rilanciare sul versante finanziario, col presidente della Giunta e con l'ossessore al bilancio. Ogni segmento che possa produrre non solo la salvaguardia di un sistema imprenditoriale, ma anche salvaguardare un posto di lavoro è il benvenuto. Noi lavoreremo per cercare di dare un contributo alla salvaguardia occupazionale in tutti i settori che sono in difficoltà.